forse vi dovete mandare un po meno potenza così almeno va più piano ok allora spiegatemi come avete fatto questa retromarcia quindi quando preme al centro va sempre indietro vediamo facciamo vediamo un po quindi premuto al centro va indietro e per andare avanti tutte e due perfetto e a sinistra perfetto ottimo